Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Scozia Italia, terzo turno del Women's Six Nation 2021. La prima domanda è per Andrea Di Giandomenico da parte di Duccio Fumero. Contro l'Inghilterra si è vista una buonissima Italia per quasi un'ora di gioco, poi la stanchezza e l'indisciplina hanno condizionato il risultato. Consci di quanto fatto di buono, ma anche dei limiti che la preparazione implica, pensi di gestire in maniera differente la Rosa per non avere un calo come a Parma? Tanto grazie per i complimenti dei primi 50 minuti, siamo consapevoli di aver fatto una buona partita e di aver avuto un buon controllo. Anche la ripartenza del secondo tempo credo che sia stata caratterizzata da una buona fase difensiva, una riconquista del possesso e una buona opportunità per segnare. Sicuramente dobbiamo essere più precisi in quei momenti e poi condivido l'aspetto della disciplina, quindi sarà uno degli obiettivi della prossima partita, diminuire il numero dei falli concessi. La gestione, insomma, proveremo senz'altro a gestire dei turnover, dei cambi, sono legati a momenti della partita. Io credo che comunque in disciplina cartellini e momentum, proprio dopo dove la stanchezza un po' ce l'aspettavamo. Certo non vorremmo questi cali un po' troppo drastici o prolungati nel tempo, però qualcosina ce l'aspettavamo. Abbiamo lavorato in settimana per rimanere più consistenti durante gli 80 minuti a livello di tenuta, di attenzione, quindi anche di focus da parte delle giocatrici. Stanno lavorando, stanno preparando le partite veramente al meglio, quindi non del risultato, senza dubbio, ma della prestazione in alcuni momenti siamo molto soddisfatti e cercheremo di ripartire da lì e di imporre questo controllo sulla partita, sicuramente per tutti gli 80 minuti. Alessandro Cecioni, Il Terreno. Come è andato il recupero post-Inghilterra e com'è stata la preparazione verso il prossimo match? Uno influenza l'altro nel senso che il recupero, ripeto, sia dal punto di vista del dispendio energetico da parte delle ragazze, anche alcune botte, diciamo così, comunque è stata una partita intensa e impegnativa dal punto di vista fisico, quindi abbiamo anche finalizzato la settimana di preparazione alla Scozia, soprattutto nei primi giorni, e molto legata al recupero delle ragazze. Siamo tornati poi in maniera importante a concentrarci su quello che è la nostra prestazione, la risposta è stata molto positiva, quindi diciamo che affrontiamo con fiducia questa partita consapevoli che anche questa non sarà, probabilmente sarà una partita diversa, più in equilibrio, ma non sarà una partita assolutamente semplice da affrontare, dove ancora una volta la determinazione delle giocatrici italiane, scozzese, insomma sarà una bella guerra da affrontare, necessaria per poi riuscire ad esprimere il gioco. Lorenzo Calamai, on rugby, Lucia Cammarano in terza linea, quali sono le ragioni che ti hanno portato al suo spostamento in campo? Allora, Lucia Cammarano è una terza linea che riesce a ricoprire anche il ruolo in prima linea, rientriamo in una logica che avevamo affrontato anche prima della partita scorsa, legata alle opportunità che vogliamo dare alla squadra e alle ragazze di poter provare varie opzioni, sia per quanto riguarda i ruoli o comunque possibilità di avere minutaggi e ha fatto un'ottima partita Lucia contro l'Inghilterra, come tutte ovviamente e abbiamo adesso già da Franco che si è infortunata in settimana, è un'opportunità per Lucia a giocare nel suo ruolo di flanker, abbiamo altre ragazze che hanno giocato in questo ruolo, che hanno avuto minuti contro l'Inghilterra e che sicuramente possano avere minuti contro la Scozia, le caratteristiche di Lucia sia come portatrice di palla che come grande placcatrice in difesa le conosciamo, quindi crediamo che possa essere una partita giusta per metterle a frutto. Ivan Malfatto, la Gazzetta dello Sport Due cambi nel 15 titolare rispetto a quello annunciato la settimana scorsa Cerchi una continuità nella prestazione delle ragazze? Sì, sicuramente, una continuità anche al di là delle giocatrici che vanno in campo, della posizione che ricoprono come la volta scorsa abbiamo parlato molto di spostamenti di ruolo, di chi scendeva in campo, in realtà poi ci siamo ritrovati a cambiare all'ultimo per problemi, verificatesi negli ultimi momenti, speriamo di non dover rimescolare le carte anche adesso, quindi è vero due cambi, però Ostuni che era data in partenza poi in maniera cautelativa l'abbiamo tenuta fuori, altri adesso senza citarle tutte, però la continuità della prestazione è sicuramente il nostro obiettivo da ricercare non tanto nella continuità delle giocatrici, le stesse giocatrici nelle stesse posizioni, ma quanto appunto un'omogeneità nella prestazione e quindi se possibile un aumento nella qualità della prestazione è legata a prescindere da chi vada in campo, quindi sviluppare la nostra idea di gioco attraverso tutto il gruppo. Cristian Marchetti, come hai trovato la squadra sabato scorso? In vista della prossima partita si ripropone la possibilità di metterti alla prova all'ala. Sono stata piacevolmente colpita dalla squadra, nel senso che ci eravamo dette che nonostante fosse stato un lungo periodo in assenza dal campo, ciò che ci premeva ritrovare era il nostro gioco, il nostro ritmo, la confidenza tra di noi e credo che per i primi 50 minuti è quello che abbiamo messo in campo e che siamo riusciti a dimostrare, quindi mi è piaciuto sicuramente l'approccio alla partita e alla fine non ho avuto la possibilità di giocare all'ala in quella partita lì, adesso contro la Scozia sembra che ci sarà questa possibilità, non cambierà nulla, nel senso che cercherò, come ho sempre fatto, di entrare in campo per aiutare la squadra e il fatto che io sia spostata di ruolo effettivamente cambia meno nei nostri meccanismi di gioco. Alessandro Ceccioni, il Tirreno. Cosa hai detto alle tue compagne durante la settimana per preparare sul piano psicologico la gara di Glasgow? Ci siamo confrontate molto subito dopo la partita contro l'Inghilterra, partendo dalla certezza che derivava da come siamo entrate in campo ed è quello che fondamentalmente vogliamo riportare a Glasgow perché sarà sicuramente una partita molto dura, ci aspettiamo una Scozia molto aggressiva e non possiamo arrivare lì troppo molli. Quindi ripartendo appunto dal primo tempo che abbiamo fatto con l'Inghilterra, aggiustando sicuramente delle cose, abbiamo cercato di lavorare sul campo appunto aggiustando questi aspetti o comunque quegli aspetti che non sono andati in partita. E ne abbiamo parlato e abbiamo cercato di lavorare su questo. Vincenzo Di Ruzza, il tifoso. Dopo una settimana di ulteriore lavoro e un match ufficiale finalmente giocato, qual è lo stato fisico tuo e delle tue compagne in vista della partita con la Scozia? Come si è insomma un po' visto comunque durante la partita contro l'Inghilterra, nel secondo tempo abbiamo sicuramente accusato un po' di stanchezza, derivato appunto dal lungo periodo lontano, comunque i pochi minuti sulle gambe. Abbiamo cercato di dedicare del giusto tempo al recupero e credo che comunque la cosa sia stata molto ben gestita da tutto lo staff, quindi credo che arriveremo sicuramente con dei minuti più sulle gambe e con delle consapevolezze in più e niente, siamo sostanzialmente pronte per andarci a giocare questo secondo round.